Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Carlo Goldoni di Patrizia Poli È noto che Carlo Goldoni, il quale esercitava l'avvocatura a Pisa, nel 1748 incontrò a Livorno Gerolamo Medebach, capo comico di una fermata compagnia di attori, marito dell'avvenente Teodora, famosa per la sua bravura sul palcoscenico e per la sua beltà. Si presuppone, anche se non è provato, che abbia alloggiato a Montenero nella casa di quest'ultimo. Qualcuno sospetta perfino che i begli occhi di Teodora non l'abbiano lasciato indifferente. Fu così in ogni modo che conobbe l'ameno paesino in cui decise di ambientare la sua trilogia della villeggiatura. Stritte rappresentata nel 1761 è composta da Le Smanie per la villeggiatura, La villeggiatura e Il ritorno dalla villeggiatura. La compagnia Medebach recitò nell'unico teatro esistente allora a Livorno, il San Sebastiano, in via delle commedie. Di là dall'intrigo d'amore e dal tema della passione contrapposta alla razionalità illuminista, l'argomento della trilogia è la smania borghese di apparire più altolocati di quanto non si sia e di quanto non permettano le reali possibilità economiche. Quindi si smania per villeggiare a Montenero, per usare carrozze, servitù, bagagli, carte da gioco, argenterie, cavalli, candele, prendendo tutto a credito nonostante le difficoltà finanziarie. Montenero era infatti la località prediletta dagli abitanti di Livorno per passare le vacanze. Nell'immaginario collettivo dell'epoca doveva avere connotazioni arcadiche. Nelle smanie si accenna al fatto che i protagonisti spendono più in un mese a Montenero che in un anno a Livorno, che si può fare economia in città, ma non certo risparmiare in villeggiatura, dove non si deve sembrare meno sfarzosi degli altri. Pietro Vigo conferma che Goldoni aveva della località solo un'idea superficiale e che non ricordava bene le distanze. Oppure, pensiamo noi, non aveva particolare scrupolo di verità, poiché descrisse come lungo e faticoso un tragitto che, dice sempre Vigo, in carrozza non poteva durare più di 35 minuti. Leggendo la trilogia della villeggiatura, vi si trovano accenni che hanno dato ragione a molti di negare non solo che Goldoni abbia scritto o pensato commedia a Montenero, ma che vi sia stato anche per poco. E veramente, pur fatta ragione dei tempi nei quali la città più piccola e le comunicazioni assai meno facili e più dispendiose facevano troppo più serie ed importante di oggi una gita a Montenero, ci fa meraviglia di leggere che per venire a questo villaggio i ricchi Livornesi ordinavano i cavalli alla posta e facevano calde raccomandazioni ai cocchieri perché pascessero bene le loro bestie, pagando di tasca per essere più sicuri. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info . . Grazie a tutti.